Le 10 donne italiane più belle di sempre. Foto. Il nostro paese si distingue in tutto il mondo per la cultura, la buona tavola. Lo sport e il mondo del cinema, ma c'è molto di più. Uniche, irraggiungibili, sexy, brillanti, argute, ironiche, talentuose, ecco le donne italiane. Vere abbasciatrici della femminilità nel mondo, hanno affascinato. E allo stesso tempo conquistato l'attenzione dell'intero pianeta. Donne di cultura, spettacolo, influencer, modelle e attrici cinematografiche che uomini. E donne ammirano per la loro bellezza e il loro capisma. Pronti a conoscere le 10 donne più belle d'Italia? Alcune di loro sono immortali. Altri lo diventeranno. 10. Emanuela Postacchini. Ancona, 1991. Emanuela Postacchini, 18 anni. Entra a far parte del cast ufficiale. Della serie TV Squadra Antimafia, qualche anno dopo. Ha recitato nella serie Don Matteo, nello stesso anno la vediamo sul set del distretto di polizia. È stato gradualmente vista sulla scena di Hollywood fino ad oggi con l'iconica serie Netflix The Alienist, con Dakota Fanning. Daniel Brull e Luke Evans. È giovane, ha quello che serve e un fascino incredibile. 9. Diletta Leotta. Se 1991, anche se giovanissima, la bellissima Diletta Leotta era già nella lista delle donne più belle d'Italia. Meglio da sono telecronista Sky? La risposta la conoscete già. Con Diletta in campo non c'è stata partita. 8. Melissa Satta. Ed ecco la bellissima Melissa Satta in tutta la sua sensualità. Nata a Boston nel 1986 da genitori sardi, è entrata nel mondo dello spettacolo all'età di 16 anni. Grazie alla sua allegria, carattere e figura strepitosa, è considerata una delle modelle più ricercate a Milano. 7. Chiara Francini. Attrice cinematografica e televisiva di grande talento, pelle bianca che libera l'innocenza. Tono toscano che le aggiunge fascino in più, Chiara Francini si fa conoscere ad un vasto pubblico grazie al personaggio di Bea nel film Tutti pazzi per amore del 2008. E da questo momento non smette di deliziare il suo pubblico. 6. Martina Stella. Martina Stella, nata nel 1984 a Firenze, si è incantato tutta l'Italia con il suo primo film. L'ultimo bacio di Gabriele Muccino, da quando ha recitato Innocence 12V9. Nessuno al mondo potrebbe più fare a meno di lei, oltre ad essere una fantastica attrice. Martina è una conduttrice televisiva e mamma di una bellissima figlioletta. 5. Caterina Murino. Un grande sorriso, curve mozzafiato, un corpo atletico e una personalità carismatica. Caterina Murino è una delle donne più belle d'Italia e vincitrice del Golden Globe europeo nel 2008. La sua interpretazione più iconica è Solange, la fidanzata di Bond in Casino Royale di Martin Campbell, con Daniel Craig nei panni di James Bond. 4. Gina Lollobrigida. Un grande salto nella storia per non dimenticare che l'Italia ha sempre avuto donne meravigliose. Gina Lollobrigida, sex simbolo italiana e star di Hollywood degli anni 50 e 60. Nei suoi numerosi film internazionali, ha lavorato al fianco di star di fama mondiale come Frank Sinatra, Sean Connery, Anthony Quinn, Humphrey Bogart, Steve McQueen e molti altri. 3. Claudia Cardinale. Altro caposaldo della nostra grande italianità nel mondo. Claudia Cardinale, paragonabile solo a Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Magnetica, enigmatica. Affascinante, resta ancora oggi una delle donne italiane più apprezzate al mondo. Basti pensare che Tarantino nel suo ultimo film c'era una volta a Hollywood ha voluto rendere omaggio all'attrice inserendo il suo nome. In un poster girato in una delle scene del film. 2. Sophia Loren. Una vera icona dell'Italia nel mondo, signore e signori, l'unica e irraggiungibile Sophia Loren. Una donna che ha attirato l'attenzione di tutta Hollywood non solo per la sua favolosa bellezza, ma anche per il suo talento recitativo. Considerata la donna più sexy del mondo. Prima attrice italiana a vincere un Oscar, nel 1999 si è classificata ventunesima. Tra le più grandi star del cinema dell'American Film Institute. Sophia è una leggenda vivente che continua a stupire ancora oggi. 1. Monica Bellucci. Monica Bellucci, ha bisogno di una presentazione? La donna più bella d'Italia. Una delle attrici migliori e più sexy che Hollywood abbia mai avuto il piacere di presentare al pubblico. Matrix, Dracula, The Brothers Grimm, Passion. Non solo bellezza, ma tanto talento. Saintico, The Brothers Grimm. La donna più bella. La donna più bella- Grazie per la visione